... Allora, innanzitutto mi presento, sono Andrea Cavalieri e la mia famiglia si occupa da ormai quattro generazioni della produzione di pasta secca di semola di grano duro. Io ho concluso i miei studi qui a Lecce, ho frequentato la facoltà di Economia e da sette anni sono entrato a tempo pieno nell'azienda di famiglia. Oltre a questo occupo un incarico di consigliere vicepresidente nella cantina sociale di Copertino. Quindi i miei settori di appartenenza sono sicuramente la produzione della pasta ma anche, insomma, inizio a interessarmi anche del vino perché seguo direttamente un vigneto di famiglia. Quindi, insomma, seguo tutti e due i settori. Volevo innanzitutto ringraziare sia il professor De Bellis per l'invito ma anche per la preziosa collaborazione, la dottoressa Francesca e per l'aiuto all'organizzazione dell'evento. E ovviamente tutti voi per essere qui. Come vi dicevo, la mia formazione è stata principalmente economica che sicuramente mi è servita a poter entrare in azienda con i giusti strumenti ma è un'azienda che ovviamente ha una forte vocazione all'aspetto poi agronomico e della coltivazione dei prodotti agricoli. Oggi ne parlavo con Francesca e lei mi faceva notare che molte persone partecipanti erano legate a progetti relativi a delle spin-off. Quindi non parliamo più solo della ricerca universitaria ma anche nel poter creare un'azienda che possa camminare con le sue gambe e con un progetto imprenditoriale vero e proprio. E proprio per questo ho ritenuto quindi di non soffermarmi solo sugli aspetti produttivi sia dal lato della coltivazione del grano duro ma anche dalla trasformazione in pasta ma a fare un po' un quadro diciamo economico imprenditoriale che forse è anche più vicino al mio background di studi. E quindi inizierò col dire che una volta messo piede in azienda dopo l'università ovviamente quello che più mi colpiva in un'azienda che all'epoca aveva ormai 88 anni e che il 7 luglio ne ha compiuti 95 come le persone che mi hanno preceduto sono riusciti ad adattare le strategie dell'azienda alle mutate condizioni dell'ambiente. Ad economia spesso noi diciamo che l'azienda deve essere vista come un sistema aperto cioè deve continuamente adattarsi all'ambiente esterno che la circonda. E proprio questo è stato l'aspetto che più mi ha colpito cioè capire come negli anni la nostra azienda si potesse adattare alle mutate condizioni. E allora ho iniziato uno studio per capire quali sono state le sfide che hanno raccolto mio padre, mio nonno e mio bisnonno dalla data della fondazione. E questo studio mi ha portato ad alcune considerazioni che oggi volevo condividere con voi. Sicuramente la globalizzazione è stato l'aspetto che più ha sconvolto le carte in tavola. E quando parlo di globalizzazione mi piace sempre ricordare due date fondamentali. La prima è stata l'89, caduta dal muro di Berlino che ha sicuramente cambiato la geopolitica un po' del mondo perlomeno l'ha stabilizzata e il 1994, una data un po' fredda perché non è legata ad eventi emozionali come il muro di Berlino poteva essere ma più che altro all'inizio degli accordi del World Trade Organization cioè l'organizzazione mondiale del commercio sulla base del quale si ponevano i principi per un commercio mondiale. Questo incontro è stato fatto alla partecipazione di non tutti i paesi ancora la Cina non era pronta a questo ed entrerà successivamente ed è avvenuta in Messico. E da qui, diciamo, dal 1994 il mondo non ha più viaggiato alla stessa velocità ha raddoppiato la velocità, tutto quello che è accaduto dopo il 1994 è avvenuto in una maniera assolutamente più radicale e anche le aziende hanno dovuto inseguire questi cambiamenti ed adattarsi in maniera molto più veloce. La Cina, come vi dicevo, che è il colosso che tutti noi adesso impariamo a conoscere o comunque dobbiamo imparare a conoscere è entrata in questi accordi nel 2001 e dal 2001 a oggi, in solo i 12 anni soprattutto sul manifatturiero è diventata la nazione numero uno per esportazioni. Come hanno regito i diversi blocchi continentali? Beh, sicuramente gli Stati Uniti hanno saputo dare delle regole al loro mercato, alle loro importazioni molto rigide quindi hanno saputo, se vogliamo, anche fermare quelle importazioni che venissero da altri paesi e sono stati bravi a tutelarsi. I paesi arabi hanno risposto in maniera negativa o perlomeno alcuni paesi di quell'area l'hanno fatto quindi il confronto con il mondo occidentale ha generato anche dei fondamentalismi probabilmente anche per colpe dell'Occidente ma comunque adesso non stiamo a approfondire il perché ma sicuramente questo non ha facilitato il loro sviluppo forse anche per delle differenze tra le varie classi sociali differenze non giustificabili ma purtroppo che si sono tuttora la Cina invece ha saputo col suo modello di socialismo di mercato quindi capitalismo puro ha saputo invece prendere seppur con grandissime differenze sociali quindi andando a forse acuire ancora più quella differenza tra ricchi e persone che invece non lo sono ma comunque è riuscita a crescere a percentuali per noi Europa assolutamente impensabili l'Europa invece purtroppo ed è questo anche un motivo per cui siamo così in difficoltà in questo momento storico non ha capito quello che stava succedendo e si è presentato allo scontro globale con le armi assolutamente spuntate perché voi dovete pensare che in queste riunioni dove si mettono i punti cardile per il commercio tutti i paesi vanno con loro rappresentanti del governo che poi può immediatamente non solo portare le istanze del suo paese ma recepirle e prevedere delle azioni correttive per difendersi dal commercio globale noi Europa invece che abbiamo fatto un'unione monetaria ma non certo di tipo politico ovviamente siamo rimasti bloccati perché non aveva uno strumento di adattamento del nostro mercato interno noi ci andiamo non con un rappresentante del governo né con un rappresentante dei governi ma con il nostro commissario europeo commissario europeo che sicuramente ha un grande potere nella regolamentazione del mercato interno ma nulla può nei cambiamenti con gli altri paesi quindi noi adesso importiamo qualsiasi genere di prodotto dal manufatturiero all'agricolo da tutti i paesi che ci incondano abbiamo creato delle capitolati burocratici delle linee grida da seguire molto restrittive adesso nel 2014 entreranno le nuove norme per l'utilizzo dei fertilizzanti che sono ancora più restrittive e sicuramente sono sacrosanti nel senso si va a tutelare la salute non solo dell'utilizzatore ma anche dell'acquirente quindi di chi va a mangiare ma anche di chi deve materialmente effettuare quel trattamento con agenti chimici quindi sicuramente una tutela rispetto verso l'ecosistema e verso l'uomo però se queste stesse sutele non vengono applicate su scala globale e noi importiamo prodotti da aree dove questi regolamenti non ci sono noi sicuramente avremo un costo di produzione maggiore il che non renderà le nostre aziende se a questo aggiungiamo anche la burocrazia il costo del lavoro poi il gioco è fatto e le nostre aziende sono assolutamente spiazzate nella competizione globale e abbiamo pensato più a creare quindi le regole del nostro mercato che sta diventando un mercato perfetto perfettamente regolamentato ma non abbiamo saputo invece proteggersi dall'aggressione dei prodotti che vengono da paesi che non applicano queste tutele pensiamo anche alle vernici alle tinte chimiche utilizzate nella produzione di abiti, tessuti in Europa abbiamo una legge molto restrittiva da altre parti purtroppo non c'è e non abbiamo neanche i controlli o dei dazi compensativi che possano compensare queste carenze e questo sicuramente uno dei motivi per cui l'Europa è più in crisi in questi molti anni quindi la globalizzazione è stata sicuramente ed è tuttora uno degli aspetti più importanti dei cambiamenti oltre a questo un altro aspetto è stato quello che la società di consulenta A.T. Kerney una società americana ha studiato molto bene che è il consolidamento dei settori cioè loro hanno notato che tutti i settori seguivano una funzione di evoluzione che va dalla fase di avvio alla fase di equilibrio questo sviluppo del settore che porta alla fine del ciclo di vita un settore ad avere dei leader di mercato delle aziende leader del mercato e invece delle altre aziende che lavorano nelle nicchie di mercato ma sicuramente non ci saranno più presenti un numero molto grande di partner in un settore specifico questo sviluppo dei settori parte da una fase di avvio dove le aziende iniziano a crescere a svilupparsi ma non sono ancora focalizzate non hanno un loro ambito di specializzazione queste aziende man mano iniziano a focalizzarsi a crescere di numero a specializzarsi e nella fase infatti della crescita si ha l'aumento esponenziale del numero di aziende col passaggio invece alla fase di focalizzazione già si iniziano a vedere le prime acquisizioni quindi gruppi più grossi riescono ad acquisire le aziende si nota un restringimento del numero dei partner presenti fino ad arrivare alla fase di equilibrio dove invece ci sono pochi partner nel settore di riferimento e anzi pochissimi leader di mercato e poche aziende che hanno saputo invece rinnovarsi, specializzarsi sfruttare probabilmente i limiti dell'azienda leader e trovare un loro piccolo mercato gli studiosi di questo gruppo di consulenza hanno poi voluto capire a fronte della situazione europea ed italiana in particolare cioè di assenza di grossissimi gruppi hanno voluto capire quali potessero essere le strategie di successo per le aziende italiane e lavorando su un database di 600.000 aziende hanno delineato otto tipologie di strategia di nicchia per le piccole aziende che possono essere adattate sia all'agroalimentare quindi alla produzione agricola che poi di trasformazione quindi pasta ed altre tipologie di prodotti è un libro molto interessante che hanno chiamato Davide Controgolia dando un senso forte alla loro analisi e delineando una strada di possibile successo delle piccole aziende del nostro paese queste strategie di successo queste otto strategie di successo sono definite con altrettanti nomi e possiamo partire dalle nicchie regionali nicchie regionali significa un'azienda una piccola azienda può contrastare lo strapotere della grande del leader di mercato andando a comprendere molto più da vicino quelle che sono le esigenze dei consumatori dell'area locale dove l'azienda opera e quindi fidelizzarle sulla base delle caratteristiche specifiche quindi non standardizzate del leader di mercato un esempio sul nostro territorio può essere il Caffè Quarta per esempio il Caffè Quarta che ha una distribuzione è un vero e proprio leader nella nostra area uscendo già dalla Puglia andando in altre regioni è molto meno conosciuto perché? perché ha saputo utilizzare molto bene personalizzare far conoscere il prodotto nella nostra area geografica e quindi fidelizzare il maggior numero di clienti ed è ha sfruttato una nicchia regionale per creare un'azienda di grandissimo successo poi possiamo avere delle nicchie di prodotto quindi andare a lavorare sulla differenziazione del nostro del prodotto che offriamo al mercato creando delle caratteristiche uniche distintive che il leader di mercato non può fare caratteristiche che devono essere ovviamente percepite dal consumatore e spesso devono toccare anche aspetti emozionali quindi non solo un prodotto che sia che sia buono ma che coinvolga perché possa ricordare i sapori ormai persi possa ricordare qualcosa regato alla famiglia e anche in questo è sempre molto bene non solo che siano valori condivisi all'interno dell'azienda ma che il consumatore possa percepirli e riconoscerli e questa è una chiave di successo poi abbiamo le nicchie di brand dove c'è l'azienda punta al valore del marchio quindi alla riconoscibilità sul mercato del marchio abbiamo le nicchie di cooperazione quindi riuscire a sviluppare e a valorizzare i legami tra imprese i distretti industriali potrebbero essere un esempio di questo genere cioè attraverso la cooperazione poter offrire prodotti che il grande gruppo leader di mercato con prodotti standardizzati non può non può offrire abbiamo hanno definito le nicchie di velocità quindi un'azienda di piccole dimensioni può avere successo quando è più veloce ad adattarsi alle richieste di mercato rispetto al grande gruppo più strutturato con una burocrazia interna più marcata nicchie di target quindi andando a definire un target ben preciso di bisogni del consumatore e cercando di fornire quelli e in ultimo le vincchie inverse che servono a sfruttare diciamo i piccoli difetti dell'impresa leader per capire tutte queste sono strategie che puntano sulla difficoltà di adattamento dell'impresa leader del mercato che spesso essendo un grosso gruppo puntando su prodotti standardizzati non riesce ad adeguarsi alle nuove richieste del mercato un esempio classico è la difficoltà delle grosse compagnie aere nel rispondere all'entrata sul mercato delle compagnie low cost i grossi gruppi classici gruppi compagnie aere hanno sofferto moltissimo perché non hanno saputo adattarsi alla nuova offerta dei competitor che erano nati e questa è anche una strategia di nicchia inversa oltre a queste evoluzioni settoriali che ovviamente sono adattabili a tutti i settori economici ci sono stati dei grossi cambiamenti che la nostra azienda ha dovuto affrontare nel nostro settore di provenienza perché noi sappiamo che la pasta è un prodotto che si fa dalla notte dei tempi adesso è stato ritrovato in Cina sulle rive del fiume giallo una ciotola piena di argilla con all'interno perfettamente conservato degli spaghetti di miglio questa è la prima testimonianza storica della produzione di una pasta così come noi la conosciamo e questo sta a significare che in realtà il prodotto pasta cioè la semplice unione tra grano macinato e acqua è un prodotto che moltissime popolazioni conoscevano sapevano preparare e quindi ha sicuramente un'origine molto antica ovviamente nel momento in cui questa pasta non era solo fresca ma si voleva conservare quindi bisognava togliere l'acqua presente al suo interno e siccarla la produzione della pasta si è andata a specializzare in delle aree geografiche ben precise in Italia noi abbiamo le due aree geografiche di maggior vocazione che sono state nell'800 e l'900 sicuramente la campagna il golfo di Napoli e la Liguria perché? perché sfruttavano le brezze calde nel caso del golfo di Napoli che venivano dal Vesuvio e un microclima perfetto per l'assiccazione all'esterno della pasta ovviamente voi capite che essiccare la pasta in altre zone con tassi di umidità maggiori con un clima molto freddo non sarebbe stato possibile e quindi nel momento in cui la pasta doveva essere essiccata all'aperto il microclima era fondamentale e la produzione di pasta si è andata a specializzare in queste due aree e da qui ci vengne la grande tradizione dei formati di pasta nella Liguria noi conosciamo le trenette conosciamo questi formati molto caratteristici dalla campagna ce ne vengono tantissimi pensiamo ai pacchere calamarata gli schiaffoni e deriva proprio da questo da questa loro vocazione all'essiccazione della pasta ovviamente nel momento in cui la tecnologia è andata avanti e si sono si è partiti con le celle statiche di essiccazione che permettevano di di essiccare il prodotto anche in un ambiente chiuso quindi con una miglioria sicuramente igienica del prodotto a questo punto la produzione della pasta si è sviluppata anche in altre zone e questo all'inizio del Novecento quando la nostra azienda è stata fondata esattamente nel 1918 e la Puglia era considerata il granaglio d'Italia e quindi è stata una zona dove più aziende sono sono nate sono nate con queste nuove tecnologie e diciamo il numero di aziende è via via cresciuto fino ad avere in Italia negli anni 70 circa 550 pastifici che trasformavano il prodotto in prodotto secco quindi non sto parlando dei piccoli laboratori di pasta fresca ma comunque delle aziende industriali che vendevano il prodotto secco ovviamente in quegli anni i mercati di sbocco erano principalmente quelli regionali era molto difficile poter delle volte varcare i confini della propria regione e questo giustificava anche un numero così ampio di aziende a questo punto però è intervenuto un grossissimo cambiamento esterno che è dato da una nuova tecnologia nell'esticcazione della pasta cioè si è passato da quello che era la metodologia classica a bassa temperatura ad una tecnologia chiamata ad alta temperatura questa è stata introdotta da da una ditta produttrice svizzera che ha notato che utilizzando temperature di molto superiori ai 100 gradi la pasta veniva essiccata a quell'epoca a temperature intorno ai 50 gradi quindi una temperatura che è leggermente superiore a quella ambientale e il tempo di essiccazione andava dalle 30 alle 44 ore con questa tecnologia ad altissima temperatura la pasta poteva essere pronta dalle 2 alle 3 ore quindi riducendo drasticamente i tempi di continuizzare assolutamente turni di lavoro perfetti sì perché ovviamente tutto meccanizzato riducendo i costi ma soprattutto ed era proprio da lì che nasceva l'analisi utilizzando materie prime che non avessero una qualità di grandissimo livello pur ottenendo un prodotto assolutamente in linea con quanto accettabile questo perché a 120 gradi tutte le proteine che sono presenti all'interno del grano duro si coagulano si compattano immediatamente e quindi il prodotto finito diciamo una buona tenuta in cottura pur però a quelle temperature ovviamente cedendo moltissimi dei aspetti nutritivi e organolettici in questo in questo momento storico c'è stata un'azienda che ha puntato fortemente su queste linee cioè ha capito che questa trasformazione poteva rappresentare il futuro dell'industria pastaria e ha investito moltissimo questa azienda è stata Barilla che andò dal fornitore di queste nuove linee di produzione e chiese l'esclusiva per comprare tutti i macchinari che loro producevano e il fornitore ovviamente gli ha detto no guarda io sono un'azienda che fornisco le macchine esclusive non ne do e allora l'ingegner Barilla chiese ma tu quante linee di produzione di essiccazione puoi fare l'anno e il produttore gli dice guarda io ne posso fornire 5 l'anno e lui fece un ordine immediatamente di 15 linee di produzione bloccando di fatto la possibilità per 3 anni ad altre aziende di avere la stessa tecnologia e questo è stata la grande intuizione imprenditoriale che ha portato poi Barilla a superare altre aziende che in quegli anni i buitoni probabilmente era anche più conosciuta aveva cote di mercato maggiore tutte queste modificazioni hanno portato in pochi anni dall'inizio degli anni 70 al 1981 da oltre 500 aziende ad averne solamente 200 perché queste tecnologie di siccazione ad alta temperatura hanno abbassato moltissimo i prezzi di rivendita del prodotto potendo contare su una lavorazione più veloce su materie prime più scadenti come abbiamo visto e quindi le piccole aziende che lavoravano nel medio che non hanno saputo specializzarsi o non hanno potuto sfruttare queste tecnologie sono state costrette purtroppo a cessare e questo processo è continuato fino al l'ultimo censimento è intorno agli anni 2000 secondo questo studio che è stato condotto quando sul mercato rimanevano solo 149 aziende numero che è pressoché confermato in questi anni questa è stata quindi la modificazione le tre grosse modificazioni che sono intervenute nel nostro settore quindi la globalizzazione il consolidamento dei settori che nel mondo della pasta è stato dovuto anche all'introduzione di questi nuovi sistemi produttivi qual è stata la nostra esperienza allora il mio bisnonno anche sulla base dell'esperienza nella coltivazione del grano duro che noi già dalla metà dell'inizio degli anni del 1800 coltivavamo nella zona tra Ostuni e Fasano e anche Altamura Lucera la mia famiglia quindi tradizionalmente era dedita alla coltivazione del grano duro però l'unità d'Italia quindi 1861 successivamente all'unità d'Italia ci fu una crisi agraria molto forte e da lì la mia famiglia decise di iniziare con la commercializzazione del grano duro nel nord dell'Italia proprio perché la semplice coltivazione e vivere di rendita non poteva garantire più l'agiatezza a cui erano abituati e quindi si spinsero a partire dal 1870 e nel 1872 viene fondata l'azienda commerciale e iniziano nella commercializzazione del grano duro mio bisnonno Benedetto da cui il nome del pastificio Benetto Cavalieri nel 1918 decide di fare il passo successivo cioè con tutta l'esperienza nella coltivazione e nella commercializzazione del grano duro di fondare il pastificio Benetto Cavalieri con le moderne epoche ovviamente tecnologie per l'essiccazione all'interno e non sulle terrazze o in strada della pasta questo fu per il sud della Puglia un passo in avanti molto importante all'epoca e mise appunto il sistema produttivo per offrire ai consumatori un prodotto di altissima qualità quindi sin da allora l'intuizione fu quella della della più alta qualità di prodotto l'azienda poi passata in mano a mia nonna Andrea che ovviamente ha dato un approccio ancora più manageriale e subito dopo a mio padre che si è trovato negli anni 70 nella grande modificazione che abbiamo visto e lui devo dire con grande lungimiranza capì che non poteva competere con questi grossi gruppi ma al contrario avrebbe dovuto ridurre ancora di più la nostra capacità di produttiva ma massimizzare la qualità per poter appunto adesso a noi sembra facile perché è stato teorizzato ma all'epoca tutto questo non c'era per poter inserirsi in una nicchia di mercato che ci potesse garantire non solo la sopravvivenza in quegli anni ma un futuro assolutamente erosio e per fortuna ha saputo cogliere questa sfida e la nostra azienda adesso devo dire ben inserita nei canali distributivi non diciamo non nella grande distribuzione non nei canali quelli che vengono definiti mass market ma più o meno più che altro una distribuzione molto selezionata in gastronomie e enoteche però in ogni parte del mondo cioè si è potuto far leva sulla sulla globalizzazione per poter collocarsi con un prodotto di qualità in tutte le aree del mondo dove c'è richiesta di prodotto di qualità e quindi si è aperto immediatamente i mercati noi abbiamo il piacere di lavorare dall'Australia a Nuova Zelanda adesso è notizia degli ultimi giorni che abbiamo un nuovo importatore in Brasile quindi anche il Brasile è un paese in cui puntiamo fortemente e io adesso mi sto occupando principalmente delle vendite all'estero quindi il Brasile è stato uno dei piccoli successi che insomma sono riuscito a raggiungere ma quindi in che cosa si qual è la caratteristica principale del nostro metodo di lavorazione che ci rende così diversi che ci ha consentito quindi di entrare in una nicchia di prodotto quindi di differenziazione che viene evidentemente percepita da chi cerca una qualità di prodotto qualità però non intesa solamente come sicurezza alimentare perché spesso molto spesso si confonde la qualità con la sicurezza del prodotto noi sappiamo che tutti i prodotti o perlomeno dovrebbe essere così prodotti in Europa hanno degli standard molto elevati anzi hanno probabilmente gli standard più elevati ma non basta questo per competere a livello globale ma bisogna appunto creare delle caratteristiche distintive e uniche e l'intuizione di mio parere è stata appunto quella cioè riuscire a se vogliamo recuperare quelle metodologie produttive non solo in campagna quindi le varietà che ormai si stavano perdendo proprio perché la grande industria vuole sempre aumentare le rese produttive aumentare la quantità di proteine a scapito però di quella della qualità dello stesso grano duro e far di tutto per avere un sistema produttivo che in nessuna fase potesse denaturale sia termicamente quindi con temperature troppo alto che meccanicamente quindi con stress con pressioni troppo forti quella materia prima e ha messo appunto quello che lui che già il mio bisnonno chiamava ma che comunque è stato battezzato un metodo delicato delicato proprio perché si voleva preservare questa materia prima in tutte le fasi della lavorazione il nostro orgoglio devo dire è la fase di essiccazione di cui più volte abbiamo parlato col professor De Bellis che è condotta con dei parametri di temperatura molto bassi la temperatura dell'aria non supera mai i 53 gradi ciò significa che la pasta non arriva a più di 40 44 gradi temperatura ottimale per non far partire delle modificazioni chimiche ai danni del glutine e degli amiti quindi dei carboidrati dei carboidrati questo processo produttivo è riuscito quindi a valorizzare a portare al massimo la qualità percepita quelle qualità organolettiche di cui parlavamo prima e quindi appunto di collocarci sugli scaffali di quei negozi che puntano al consumatore finale di qualità a mio modo di vedere per quanto adesso torno dagli Stati Uniti dove sono stato al Fancy Food Show che è la fiera più importante dei prodotti di qualità lì per fortuna non si respira un'area di crisi e per me è stata anche una ventata di ottimismo perché le fiere da noi sono spesso sentire parole o di l'azione di pagamento o chiusura o difficoltà o i fornitori non mi pagano queste sono le parole che ormai purtroppo si sentono sempre più spesso in Italia e in Europa negli Stati Uniti invece si parla di investimenti nella divulgazione dei prodotti di qualità e questo è un aspetto importantissimo ma vedo che la chiave di successo è proprio questa riescono ad emergere quelle aziende che hanno puntato sulla qualità del prodotto che sicuramente la nostra regione è in grado di poter offrire io ovviamente professore a questo punto sono aperto alle domande insomma non però è possibile non ci sia un difetto nella pasta cavaliere no beh il difetto c'è il difetto c'è qual è? lei lo sa meglio di me e me lo il professore è sempre molto attento alla democratizzazione delle cose no cioè a rendere fruibile qualsiasi aspetto a più fasce di consumatori possibili parlavamo prima del mercatino del gusto di maglie che è stato insomma pensato e dato da Slow Food che insomma per noi avere a maglie un mercatino di questo genere è ovviamente un motivo di grande orgoglio e di come questo mercatino abbia saputo non solo rimanere chiuso nell'elite dei gastro dei gastrofanatici come vengono adesso definiti ma conquistare sempre più consensi tra i consumatori abituali comuni del mercato non solo tra gli esperti e allo stesso modo ovviamente il difetto a cui faceva velatamente riferimento il professore è un costo ovviamente superiore al prodotto che normalmente troviamo siamo abituati a trovare nei supermercati una pasta industriale può variare tra i parlando al chilo tra i 60 centesimi ai 2 euro se parliamo di un prodotto invece lavorato tradizionalmente qualcuno dice artigianalmente dobbiamo arrivare tra i 5 e 6 euro quindi un prezzo che è sicuramente diciamo triplicato in media questo a mio modo di vedere comunque è un prodotto che rimane sui 6 euro al chilo quindi può essere diviso in 10 porzioni facciamo anche 8 comunque guardando da questo no no per una volta che ce la possiamo permettere non facciamo la tosse no era per rispondere alla provocazione comunque stiamo parlando di un costo che è sotto a un euro a piatto siamo sugli 80 centesimi quindi stiamo parlando di un prodotto assolutamente accessibile democratico certo è che sulla pasta in particolare molto più che il pane c'è un'attenzione al prezzo maniacale addirittura se pensiamo che nel 2008 con l'incremento dei prezzi del grano che c'è stato l'antitrust ha ritenuto di dover mettere il naso in sanzionare addirittura alcune aziende sono come se le grosse aziende avessero il potere di fare un cartello come i grossi gruppi bancari assicurativi petroliferi e gestire il prezzo della pasta quando stiamo parlando di un alimento che esce anche a 60 centesimi al chilo io credo che sia difficile obiettivamente eppure sto parlando di aziende molto grosse che secondo me non sono neanche i nostri competitor ma che comunque sono produttici di pasta quindi secondo me questo non è giustificato ma comunque sulla pasta c'è sempre molto più che ripeto sul pane di cui spesso non si sa neanche il prezzo ma sulla pasta è un'attenzione altro aspetto che sta sempre molto a cuore al professor De Bellis è la provenienza dei grani ovviamente noi sappiamo che la struttura agronomica territoriale della Puglia ma in generale dell'Italia è caratterizzata da una frammentazione da una parcellizzazione dei terreni agricoli uno studio faceva emergere che c'è un'estensione media sui tre ettari ad azienda agricola che comunque è togliendo i piccolissimi si considerando piccolo però le aziende agricole strutturate diciamo avevano una media forse quelle c'è realicola sì insomma tre ettari ecco comunque tre ettari comunque un ettari ancora peggio ma non ti permette di poter avere quella strumentazione quelle soprattutto a fronte di tutte le nuove normative che stanno subentrando che ti permette di abbattere i costi quindi il costo è sicuramente e per questo la grande industria che compete sul prezzo quindi che ha bisogno di anche offrire un prodotto che abbia il prezzo più basso possibile a quel punto deve rivolgersi a paesi che hanno estensioni molto più più ampie e che possono ammortizzare i costi in maniera decisa e spesso quindi il grano duro proviene da nazioni come Canada Stati Uniti Kazakistan beh il Kazakistan è un produttore di grano duro sì e con anche problemi legati allo stoccaggio e al trasporto perché durante il trasporto ovviamente che spesso avviene via mare in queste navi cisterna ci possono essere anche degli sviluppi delle muffe delle tossine che sicuramente non sono proprio salutari per il nostro e questo va a scapito molto spesso delle nostre piccole aziende agricole noi che dobbiamo offrire invece un prodotto di altissima qualità ovviamente abbiamo un compito più facile perché il nostro consumatore non è diciamo maniacale sul prezzo cioè non fa semplicemente una distinzione sulla base dell'offerta che trova al supermercato ma cerca più che altro un produttore un prodotto di qualità ovviamente qualora lo riconosce è disposto a pagare qualcosa di più per avere un prodotto di qualità con questo non significa che tu avendo un marchio mai riconosciuto puoi abbassare quel livello di qualità questo sarebbe ovviamente l'inizio della fine ma puoi fare in modo da avviare una filiera produttiva controllata e seguita per produrre non solo non solo avere grandissime rese per ettaro ma avere al contrario rese più basse ma massimizzare la qualità del prodotto già in campagna il che è il primo passo necessario per avere un prodotto di qualità tutti questi aspetti ovviamente un processo produttivo più lento l'attenzione maniacale alle materie prime che nella stragrande maggior parte dei casi vengono da nord della Puglia Basilicata qualcosa della Calabria a meno che non stiamo parlando di annate in cui l'andamento climatico è stato assolutamente sfavorevole quindi queste materie prime vanno selezionate e miscelate con delle provenienze straniere ma nella maggior parte delle annate la produzione interna ci permette una qualità assolutamente elevatissima del nostro prodotto cosa però capisco che i grandi gruppi non possono fare e che altro professore io il colore ah il colore cioè ormai tutti sono abituati alla pasta varilla il riferimento certo no? cioè la prima impressione dice ma è sbiadita sul colore sì è un aspetto che delle volte richiama anche le caratteristiche che abbiamo visto per la frutta cioè il consumatore è spinto a comprare la mela più grande la mela più bella la mela più lucida e può essere un difetto quando invece quella mela ha un piccolo puntino nero quando magari è stata mangiucchiata da un da un insetto e quelli vengono considerati grandissimi difetti magari invece la mela più bruttina aveva delle caratteristiche organolettiche nutrizionali anche maggiore ma il consumatore è attratto in primo acchitto dalla bellezza e così nella pasta le grandi industrie sono molto attenti al colore perché questo colore giallo dorato deve ricordare il colore del grano maturo e quindi viene considerato il colore come un aspetto commerciale molto importante in realtà questo colore giallo ambrato così intenso deriva non tanto dal colore della semola che è molto più chiara e molto più bianca ma assolutamente dall'inibizione di alcuni enzimi che sono responsabili dell'imbrunimento del prodotto quindi l'opacizzazione del prodotto lavorando ad oltre diciamo 80 gradi si inibisce l'azione di questi enzimi e quindi il prodotto rimane diventa per lo meno di nonché un red index quindi una colorazione tendente al rosso che deriva dalla reazione di Maillard cioè l'interazione a determinati valori di temperatura umidità tra la matice proteica e e gli zuccheri e gli zuccheri cioè adesso non voglio entrare nel vostro campo per non fare però insomma è questo in linea di massima al contrario lavorando a bassa temperatura gli enzimi non vengono non vengono disattivati quindi fanno il loro lavoro e questo è uno dei motivi perché una pasta tradizionale artigianale ha un colore molto più tendente al bianco all'opaco un'altra ragione perché noi utilizziamo le trafile al bronzo trafile al bronzo che al contrario di quella al teflon che è un materiale plastico non levicano il prodotto non gli danno una traslucenza ma anzi vanno un po' a aggraffiare a rendere più porosa la superficie del formato rendendola ancora più opaco il vantaggio del bronzo rispetto al teflon è che sicuramente la pasta sarà più porosa quindi sarà più aperta all'assorbimento del condimento quindi a creare quella unica amalgama tra pasta e sugo lo svantaggio è che anche in questo caso rallenta il ciclo produttivo perché puoi spingere meno le macchine in quanto ovviamente il bronzo dà una maggiore resistenza in atto di trafilazione e ovviamente non puoi spingerlo più di tanto perché l'attrito produce calore scaldi l'impasto e quindi andresti a perdere solo caratteristiche organolettiche ma ridurre anche già dalla fase di trafilazione avviare quelle modificazioni molto dannose a carico delle proteine e dei carboidrati al contrario invece il materiale plastico consente una lavorazione molto più veloce molto più scorrevole della pasta e quindi garantire quel colore che spesso siamo abituati a trovare nelle marche commerciali grazie ho una domanda però forse aspetterei prima le domande da prima domanda attiva no grazie no no noi ci poniamo spesso il problema di come e quanto il consumatore riesca a percepire questo delta in termini di qualità no nel senso che io che sono un consumatore di pasta medio cioè nel senso che in realtà medio non sono parecchie la mangio no non tutti i giorni ma insomma anche la sera però non mi sento in grado di percepire la differenza di qualità che corrisponde a una differenza di prezzo così ampia molto probabilmente poi magari ho poca come dire sono poco esposto magari a livelli con le idee elevati e ci poniamo spesso per esempio nel momento in cui ho come dire il frutto di un'attività di ricerca e sviluppo che mi porta a un'innovazione questa innovazione può portare a un miglioramento della qualità o della sicurezza o qualsiasi aspetto del mio melone in busta come faccio a comunicare al consumatore che il mio melone sarà molto migliore di quello che produce il concorrente che non ha applicato la mia invenzione e convincerlo a spendere qualcosa di più quando eventuali parametri di qualità sono come dire di un'ampiezza la differenza di un'ampiezza tale che lo specialista o l'amatore o il cultore eccetera se ne accorge e l'altro no cioè c'è un come dire uno strumento comunicativo che riesce come dire a saltare questa barriera di percezione del consumatore medio beh sì ci sono vari strumenti e varie azioni di comunicazione che un'azienda può porre in essere però due considerazioni probabilmente c'è una richiesta di prodotto di qualità maggiore di quanto noi possiamo pensare cioè spesso quello che sento che sento dire alla frutta non sa più di niente la verdura non sa più di niente quindi questa è già no no ma non è coppa non è coppa tua però adesso no ma se conclusione la pasta è buona la frutta non sa più di niente se noi già vogliamo fare un sondaggio noi siamo tutti molto giovani ma spesso sentiamo dire dai nostri genitori dai nostri nonni ah certo non c'è più la frutta di una volta no e spesso non c'è più e non c'è più perché si è lavorato su quelle varietà i grandi gruppi ovviamente tendono ma in tutto a standardizzare perché standardizzando i gusti delle persone loro li possono controllare e quindi offrire un prodotto e venderlo sempre di più noi dobbiamo lavorare in un altro senso dobbiamo lavorare per tutelare la biodiversità le differenze e quello che una piccola azienda può può veramente spendere come carta di successo e quindi c'è sicuramente una richiesta quindi il consumatore ha una richiesta un'azienda può intercettare questa questa richiesta ovviamente non ha però gli strumenti le energie le risorse per poter fare una campagna pubblicitaria non può competere col grosso gruppo non può dare fastidio perché non ne ha proprio le le capacità e allora da qui una serie di di eventi di degustazioni certosini minuziosi andando a intercentare di educazione di educazione perfetto di educazione ci sono molte associazioni che operano in questo senso il professore ne citava una che è Slow Food che raggruppano persone molto attente a questo tipo di prodotti che quindi li ricercano li vogliono trovare sul mercato perché magari hanno deciso di allocare le loro risorse da altri settori al cibo al food e questo è un po' quel meccanismo che gli economisti americani hanno chiamato il trading up cioè se vogliamo fino a pochi anni fa un consumatore medio con uno stipendo medio faceva acquisti medi adesso si è visto che questo non avviene più perché anche il consumatore medio con degli introiti medi per alcune tipologie di prodotto fa trading up cioè si consente anche per gratificarsi perché ormai dedica sempre meno tempo alla famiglia e quando vuole si vuole vuole avere la bottiglia di vino molto costosa il prosciutto non più da 20 euro al chilo ma da 100 euro al chilo la pasta di un certo tipo e quindi destina parte delle risorse spostandole da altri settori quindi facendo poi trading down magari lo shampoo non lo compra più in erboristeria ma lo va a comprare da un hard discount quindi ci sono questi fenomeni di trading up e trading down che hanno spostato anche l'attenzione del consumatore su prodotti che probabilmente prima non avrebbe mai pensato di acquistare certo è un percorso molto lungo è un percorso lungo cioè un'azienda che oggi decide di fare qualità di offrire un prodotto un servizio di qualità piccola azienda che non è leader di mercato deve sapere anche che non si fanno salti dall'oggi al domani c'è bisogno di impostare delle politiche di lungo periodo che se il prodotto ovviamente è valido ti possono portare al però insomma a me capita spesso di di entrare in contatto con aziende che si occupano anche di di ortofrutta e l'ultima è stata proprio un contatto di un importatore su Londra che da un anno ha focalizzato il suo business nel fornire frutta fresca ai migliori ristoranti di Londra e in un anno ha avuto un exploit impressionante impressionante e la difficoltà che lui mi raccontava è dire voi qui avete in Puglia un prodotto straordinario però purtroppo come produzione come varietà ma purtroppo io non trovo quella qualità che i miei consumatori chiedono non trovo quella qualità e non trovo neanche delle aziende che sono organizzate per servirmela perché trovo la piccolissima azienda che fa albicocche la piccola azienda quindi non trovo una struttura logistica che mi permetta di gestire quindi paradossalmente i bisogni dei consumatori ci sono gli attori che vorrebbero il nostro prodotto ci sono manca la capacità imprenditoriale di offrire questi prodotti io faccio spesso l'esempio del se uno va in un qualsiasi ristorante pugliese se uno va in un qualsiasi ristorante pugliese e finisce il pasto arriva il momento del dessert in genere ti offrono una buona scelta di dolci diversi se chiedi la frutta cominciano a fare la faccia un po' e se proprio sono forni ti portano l'ananas anche in periodi in cui magari uno va a mangiare a Bari e è pieno di ciliegie ti portano l'ananas oppure non ti portano niente perché non hanno niente cioè il discorso di avere come dire di fare dell'occasione pasto al ristorante anche un modo di promuovere il territorio ma anche come dire credo che per quanto l'ananas sia comodo un prodotto globale però immagino di comprare le ciliegie di stagione a Rutigliano costi molto meno rispetto a là così come non lo so uno va a mangiare a Palermo a novembre il periodo del bastardone sapete cosa è il bastardone? è il figo d'India scozzolato cioè il figo d'India che proviene dalla seconda fioritura una volta che si tolgono tutti il ricaccio diciamo dell'anno nuovo per cui in Sicilia si riesce a far maturare il figo d'India a fine ottobre novembre in maniera tale da arrivare uno va lì a Palermo che deve mangiare il figo d'India finalmente è buono ma al ristorante gli danno l'ananas perché no dicevo no non ce l'abbiamo perché naturalmente è scomodo c'è un sacco di perdita portarsi la cosa dietro la frulla la buccia la cassetta sporcata e quindi da questo punto di vista un'occasione cioè produrre frutta di qualità pronta per l'uso da vendere al ristorante che poi la consuma nel giro di un giorno massimo due giorni è tecnologicamente facile e molto conveniente c'è un bisogno di cioè io come tante altre persone se un ristorante non mi dà la frutta buona o mi dà solo l'ananas la prossima volta non ci vado più perché per me è importante mangiare la frutta di qualità per cui diciamo da questo punto di vista la famosa domanda non come dire incontrata da chi vende prodotto alimentare no? Sì e su questo si possono fare due riflessioni diverse la prima è quella che purtroppo il contadino chi coltiva la terra è stato relegato all'ultimo posto della scala sociale purtroppo quando non si capisce che è colui che ci dà l'alimentazione che non solo questo ma che è il guardiano della tutela del nostro ambiente cioè se noi facciamo abbandonare le campagne perdiamo anche una grandissima risorsa che è appunto il nostro ambiente e la seconda considerazione e quindi le nuove generazioni sono assolutamente cercano di scappare dall'agricoltura sicuramente è difficile che qualcuno lo voglia fare preferiscono altre tipologie di studi di lavori perché è un po' come dice se ci forse c'è una forma alternativa di disoccupazione sì quando magari impegnarsi certo è una professione ma è molto impegnativa ma potrebbe avere un futuro interessante e la seconda aspetto è quello giustamente che dicevi tu è che è ancora più grave il fatto di non offrire i nostri prodotti della terra perché ormai i tantissimi turisti che affollano la nostra regione sono alla ricerca di quei prodotti cioè vengono qui anche per quello io ricordo che fino a 15 anni fa nei ristoranti a Lecce era difficilissimo trovare dei vini salentini adesso io credo che un Veneto che venga nel Salento di provare un vino di casa sua o anche un toscano magari non ne ha voglia vorrebbe invece provare avere un'esperienza nuova provare un vitigno diverso una coltivazione diversa una cultura diversa per fortuna sul vino abbiamo fatto tantissimo siamo riusciti a lavorare bene adesso per fortuna in carta si trovano anche perché le aziende hanno fatto dei passi da gigante e quindi su questo dobbiamo lavorare moltissimo anche sugli altri aspetti e quando parlo di altri aspetti mi riferisco alla frutta all'olio noi siamo dei grandissimi produttori di olio ma spesso l'olio che si utilizza nella ristorazione non è il nostro sono oli rettificati ma sì abbiamo il periodo della raccolta delle olive l'olio novello ma non c'è un evento che possa comunicare possa far conoscere possa e questo è un gran peccato credo che sia una però questo mi fa anche ben pensare perché se noi abbiamo un flusso turistico così importante e non siamo in grado di offrirgli un servizio perfetto abbiamo tanta strada da fare quindi possiamo ancora di più fare in modo che la nostra regione sia sempre più considerata a livello italiano e europeo e mondiale quindi su questo quando c'è qualcosa da fare io penso che ci siano sempre speranza per un futuro migliore è un problema quando ormai è provato tutte le state noi abbiamo tanto da fare ancora questo è vero c'è tanta strada da fare però io ho l'esperienza a causa del mio idioma spesso vengo interpretato anche come un turista e qui spesso molti vengono attratti dai bassi prezzi ma poi non ritornano nella seconda la seconda volta cioè meno male il mondo è globale ce ne saranno degli altri la stagione dopo ma diciamo la Puglia non fa molto per attrarre turisti e questo è un esempio e qui ci scordiamo per trattenerli no anche per fidelizzarli cioè tutto il meccanismo imprenditoriale è basato su una fidelizzazione cioè se ha un importatore in Giappone avrà dei clienti in Giappone voglio dire vorrà continuare per l'eternità a servire il Giappone il passaparola che è un passaparola però è importante che qualcuno continui a comprare e poi alla fine le persone cambiano perché ci sarà sempre uno più bravo di me a fare il visologo vegetale o più bravo di colelli a studiare la frutta se poi tutti vanno da quell'altro siamo rovinati e qui però c'è un problema c'è una piccola colpa dell'università che spesso non si perde molto nella divulgazione noi conosciamo tutte queste cose ma divulghiamo abbastanza poco lo facciamo nelle nostre aule però dobbiamo scendere proprio nella piazza nella sagra o qualcosa del genere e poi l'enorme colpa è dei politici a cui spesso a me viene sempre l'idea riparlando degli agricoltori che è bene mantenere gli agricoltori un po' ignoranti così danno il voto a me che poi gli darò la prebenda o gli arriverò le tasse come fanno la padagna il contributo eccetera perché voglio dire si parla sempre del contributo dell'ente pubblico Pincopallo che porta tutti gli imprenditori in Russia non porta i prodotti e quegli stessi prodotti non sono forti in casa oppure non sono offerti ai turisti che arrivano questo è un boomerang colossale quindi vengono spesi magari milioni di euro ma proprio per nulla cioè questi politici non fanno il nostro servizio però poi sono sempre i nostri amici è lì che c'è soldi disponibili la promozione però vengono spesi molto male in una scarsa divulgazione oppure quante volte sono state stampate con soldi pubblici le guide dei ristoranti del Salento o della Puglia ma mai si è andato a fare una regola per cui per entrare nella guida vuoi mettere i dieci principali prodotti della Puglia periodicamente cioè quando la stagione le ciliegie le vuoi vendere le ciliegie ma il problema è che il politico non può non può dire no cioè non può escludere perché nel momento in cui esclude si fa dei nemici e nel momento in cui si fa dei nemici perde dei nemici non è solo quello perché in realtà può includere in maniera colcevo può includere in maniera selettiva perché il politico poi spesso fa gli interessi del più importante il più importante poi diventa magari l'industriale e non può funzionare comunque domande dalla platea se no sembrate platea per davvero non giocate con noi io vedo tra l'altro anche il signore molto addentro al settore agroalimenti entrerò a breve nel settore del pago ah ok mi riguarda relativamente però la materia prima è simile quindi c'è un un punto di collegamento no io devo soltanto complimentarmi per l'eccellenza ah grazie si parla tanto di eccellenze ci si autoreferenzia fondamentalmente le eccellenze dell'università le eccellenze della ricerca le eccellenze di quale c'è in sé in genere chi parla di eccellenza si sta autoreferenziamo l'eccellenza ti deve venire riconosciuta da qualcuno non devi essere tua come si dice dalle nostre parti auto incensarti ed è diventata questa dell'eccellenza un un tratto comune di eccellenza ormai non c'è più nulla perché tutti parlano di eccellenza però niente questa della benedetto Cavalieri penso sia una delle poche reali grazie che viene anche da un retaggio storico e da una tradizione da un'evoluzione nel in cento anni ecco quindi il fatto di essere rimasti nel mercato con una nicchia e di espandersi è una cosa veramente lodevole la ringrazio molto però ecco il mio messaggio era quello anche che se uno ha bene in mente quello che abbiamo detto cioè le possibilità di fare un prodotto di qualità gli spazi ci sono sì questo conforta questo conforta il fatto che ci sia una domanda ma non ci sia una risposta e ci sono ampi margini di miglioramento e di crescita questo conforta soprattutto nei tempi della crisi la base è il lavoro e se uno pensa di poter raggiungere gli obiettivi senza soffrire lottare senza impegnarsi io credo che stamattina ne parlevamo col professore scorciatoie le offre in genere la politica e poi non sono delle scorciatoie perché poi si ritorcono contro esatto noi siamo orgogliosi di aver lavorato senza i contributi perché spesso quando ti dicono c'è la missione a Londra la missione a Londra c'è e ti dicono sì si conosce l'ambasciatore ma l'ambasciatore cosa mi porta alla fine cosa mi porta io di avere pagato il viaggio per andare a conoscere l'ambasciatore per andare a vedere Londra non mi interessa io ho bisogno di allora delle volte preferiamo fare dei sacrifici studiare noi un progetto pagarlo di tasca nostra ma realmente colpire quello che vogliamo colpire lasciando perdere queste organizzazioni però come dicevamo prima è il lavoro c'è solo l'impegno avere chiari gli obiettivi e lavorare per quelli può produrre risultati secondo me secondo me anche il fatto di essere innamorati del proprio mestiere certo considerarlo non solo un impegno assolutamente io volevo fare più che altro un'osservazione da un punto di vista tecnico e volevo chiedere pure se il il pastificio comunque Cavalieri è anche attento a un discorso di salute oltre che di qualità in senso lato perché poi va di pari pasto il discorso della qualità va di pari pasto anche con la salute del consumatore per esempio il fatto di trattare la pasta di seccare la pasta a una temperatura di 50 gradi insomma se non sbaglio è quello il valore comporta anche delle implicazioni a livello delle modificazioni dell'amido che è contenuto nel grano quindi se queste modificazioni possono anche dare dei benefici rispetto a una pasta seccata a una temperatura migliore cioè più più alta e quindi se ci sono delle differenze se voi avete notato delle differenze se ci sono stati degli studi che hanno sì gli studi ci sono ci sono stati e ci sono spesso vengono un po' nascosti o comunque non vengono finanziati come andrebbero perché ovviamente non c'è non c'è poi l'interesse a far conoscere questo tipo di differenze che nascono dalla produzione di piccole aziende quello che è sicuramente dimostrato che le alte temperature fanno diminuire drasticamente alcuni parametri nutrizionali quindi gli aminoacidi essenziali tra cui la lisina e si formano l'ultimo studio che ho letto si parla di composti di dubbi a natura però non c'è uno studio che abbia esattamente quindi non sto qui a dire che la pasta industriale possa far male perché poi non credo sia così sicuramente il fatto che il nostro organismo è abituato da migliaia di anni a mangiare il grano le proteine rispettate nella loro forma che non subiscono modificazioni questo è un dato di fatto notiamo degli aumenti anche dei casi di celiachia di intolleranza al glutine che spesso derivano anche da queste nuove varietà che consentono ai grossi pastifici di avere altissime proteine altissime rese ma che poi ovviamente possono generare problemi di questo tipo quindi sicuramente per noi la qualità è da vedere a 360 gradi cioè non si possono scindere i due aspetti e questo lo facciamo monitorando una serie di parametri quindi sia come il grano duro viene coltivato fino al minimo impiego di pesticidi fertilizzanti e pesticidi chimici non solo nel campo ma anche all'interno della nostra azienda perché poi avere un sistema di gestione quanto più rigoloso di controllo ti permette quindi di monitoraggio ti permette anche di limitare al minimo gli interventi all'interno delle aziende spesso ovviamente come tutte le cose anche nella pasta ci sono dei limiti di legge che bisogna rispettare ma i limiti di legge si può essere al di sotto ma comunque c'è la presenza di qualche contaminante il fatto di prendere poi anche il grano da zone vicine ci aiuta essere molto bassi in quei muffe o presenze tossiche che normalmente ci possono essere nel grano duro la legge italiana impone per esempio per un contaminante molto pericoloso che è il DON un livello massimo di 750 parti per milione noi abbiamo normalmente adesso Barilla e Plasmo ne parlavo col professore qualche mese fa hanno fatto una battaglia mediatica affermando i loro valori al di sotto dei 200 parti per milione che sarebbe il limite massimo per l'alimentazione dei bambini inferiore a tre anni però comunque erano tra i due e i 300 parti per milione noi avendo una filiera che si costa un approvviginamento così vicino non superiamo mai il valore di 50 quindi comunque anche questo ci consente di avere una garanzia maggiore anche nei confronti per il consumatore però secondo me quando parliamo di qualità non si può scindere l'aspetto qualitativo solo in singoli aspetti quindi ci deve essere prima la qualità la sicurezza alimentare ovviamente poi gli aspetti nutrizionali come anche diceva il professore i valori organolettici e il quarto componente della qualità deve essere la qualità del servizio senza la qualità del servizio avendo solo un prodotto di qualità ma non dando un servizio preciso puntuale al tuo cliente che può essere il cliente finale nel caso di un panificio per esempio o i tuoi clienti professionali nel caso di un pastificio quel prodotto perde molto e non non ha poi la forza di affermarsi nel lungo periodo sui mercati quindi sicuramente la qualità la sicurezza alimentare è uno degli aspetti più importanti grazie altre domande cosa ci siete venuti a fare eh si siamo qua però sembra tutto perfetto siamo eccellenti tutto quello che abbiamo detto è perfetto non è vero e io apprezzo molto il professore perché spesso è fonte di grandi riflessioni cioè lui riesce a vedere il territorio dove ormai è stata da molti anni con un occhio particolarmente critico e noi in questi ultimi anni viviamo più un'esaltazione del nostro ah il Salento ah la Puglia ah però sicuramente abbiamo fatto molto stiamo facendo ma non dobbiamo perdere di vista la strada che invece c'è da comprare e il professore in questo ci aiuta sempre toccandoci nelle parti vive che non dobbiamo dimenticarci no io appunto volevo fare un altro un'aggiunta alla storia del colore no perché appunto con la pubblicità con vedere la pasta barilla ormai siamo praticamente tutti cresciuti no vedendo questa pasta gialla però poi quando andiamo a comprare la pasta fresca è bianca no proprio perché non subisce nessun trattamento termico quindi da un lato accettiamo un colore dall'altro noi pretendiamo uno giallo invece la pasta reale la pasta normale è praticamente un giallino tenue no questo è il colore normale della pasta il resto appunto è determinato dal trattamento termico soprattutto però il colore ambrato no quello che ritorna nelle pubblicità è chiaro è quello che può diventare nel tempo uno standard ed è chiaro che una piccola azienda non può competere nella pubblicità della barilla ora io non ho l'idea ma immagino il 10% del fatturato barilla sia in pubblicità insomma hanno voglio dire hanno degli attori famosi che a me mi fanno ridere quando fanno la pubblicità con la gallina averci soldi chiamerei Angelina Jolie a giocare con le galline se fosse il signor barilla ma insomma diventa quasi una pubblicità ridicola però rientra nelle nostre case ci fa apprezzare cose che in realtà sono inutili e questo perdiamo perché ci vuole un messaggio che a tutti i livelli possa cercare di essere diffuso e per questo poi tocca anche alle aziende io per varie cose e questo l'ho suggerito anche ai cavalieri cioè cercare sempre di aggiungere una tracciabilità esplicita perché spesso diventano le critiche io ora come dire per caso stamattina parlando con un'impiegata del dipartimento che è di maglie ah si c'è come hai detto cavalieri stamattina che parla si però c'è qualcuno che dice come c'è qualcuno che dice ci sarà sempre qualcuno invidioso che troverà il difetto però probabilmente dato che qualcuno in questo caso si non si sa da dove prende il grano perché è chiaro intorno a maglie il grano non lo vede nessuno ma che vuol dire e allora della barilla non te lo chiedi da dove prende il grano no cioè proprio la critica sul pastificio piccolo no ma quello può nascere io capisco anche perché spesso ci sono dei piccoli agricoltori della zona di maglie che ci propongono le materie purtroppo la zona del Salento fino a diciamo Altamura non è focata per una produzione di grano di qualità si produce ma non ha quelle caratteristiche spesso a Tenerito ha delle puntature bianche non esprime quelle caratteristiche allora se noi dobbiamo fare un prodotto di qualità vogliamo il meglio e il meglio lo possiamo trovare in quelle colline esposte a mezzogiorno ventose della zona nord della Puglia quindi è un fattore bisogna capire che ogni terreno ha la sua vocazione e questo è un aspetto fondamentale sono convintissimo però anche in questo caso si potrebbe aggiungere scriverlo da qualche parte che il 95% della materia prima viene da Puglia Basilicata e Calabria più diventa esplicito più viene ripetuto in realtà è anche un messaggio anti-barilla che non potrà mai dire una cosa del genere perché lì è completamente rovesciato il 90% del grano li verrà dal Canada dalla Russia o dall'Australia però vede delle volte bisogna ragionare anche a livello globale cioè una volta mi è capitato ad una presentazione negli Stati Uniti con un cliente importante che dice sia la nostra produzione che i grani di Puglia e lui mi ha detto ma perché scusa i nostri grani sono buoni e questo che c'entra è una tipicità che noi possiamo giustificare certo però il tuo grano non è tipico è del Canada lo so però devi essere anche molto accorto nel non toccare le sensibilità avendo un mercato noi il 60% della nostra produzione va all'estero quindi abbiamo bisogno di anche riuscire a uniformare tutte le cambio la frase scrivere principalmente circa il 90% dall'Italia giocando sulla tipicità non è che il grano canadese non vale il grano canadese lo usiamo tantissimo poi per il pane per altre farine e così via però come si fa questo è un prodotto tipicamente italiano sarebbe secondo me un enorme boomerang però si fa contento il Canada ma già quello degli Stati Uniti che non è un appassionato di Canada dice ma come la pasta italiana è fatta col grano del Canada però spesso anche da noi c'è una grande confusione spesso si pensa che solo i grani italiani siano di qualità e tutto il resto questo non un'altra cosa che spesso mi chiedono ma è tutto grano salentino no guarda è pugliese perché ah quindi italiano stiamo tranquilli ma poi pasta di kamut la fate perché signora no perché io mangio solo pasta di kamut no scusi allora il kamut è un un cereale di vitoso un seme brevettato che è gestito perfetto è registrato viene gestito da una multinazionale che lo coltiva principalmente tra Canada e Stati Uniti affidandola a dei produttori in concessione il seme è un ibrido non si riproduce si è un tra l'altro in quelle zone in molte zone del Canada il freddo arriva presto quindi deve essere mietuto anticipatamente la maturazione viene effettuata nei magazzini quindi riscaldando i magazzini insomma non è un prodotto di eccellenza tornando al discorso però purtroppo il consumatore che un secondo prima si è assicurato se grani fossero tutti di prevenenza italiani tutti è poi mi dice eh ma io mangio solo kamut quindi ecco bisogna non si può fare contenti tutti però lo zoccolo duro ha da rimanere se no possiamo con questo principio se vendiamo soprattutto in Canada e negli Stati Uniti delocalizziamo in Canada e negli Stati Uniti la pasta cavalieri cioè bisogna avere un elemento principale che va il 90% di un cliente canadese o americano sta comprando la sua pasta perché è italiana ed è fatta con frumenti per cui diciamo il fatto di poter chiedere una differenza di prezzo è dovuto proprio a questo cioè il fatto che io mi sto prendendo l'onere di fare la mia pasta con quella materia anche questo e tu mi riconosci questo se qualcuno diceva vabbè però dovresti usare anche un po' del grano non posso comprare un altro perché io faccio questo poi dal punto di vista culturale dal punto di vista culturale so che l'americano medio è convinto che tutto quello che produce lui è meglio assolutamente quindi bisogna anche fare attenzione poi commercialmente comunque alla fine c'hanno sempre la bomba che risolve il problema la mentalità è questa quindi signori della platea grazie io non voglio banalizzare diciamo più che altro la mia è una battuta intanto sarà una battuta intanto diciamo mi congratulo per per gli ottimi risultati diciamo da lei esposti della sua azienda per come la porta avanti e per come mi immagino che che continuerà però voglio fare lo stesso la battuta una buona pasta anche se la chiamo asciutta è determinata sempre dalla qualità della qualità del sugo quindi io anche se compro una pasta che diciamo mi viene a costare due euro al chilo alla fine se sbaglio a fare il sugo dico oggi abbiamo fatto una schifezza ecco diciamo questo credo che valga anche per la pasta che le produce però a questo punto mi aspetto di capire e di vedere di leggere la differenza sull'etichetta cioè se la pasta cavalieri è migliore di un'altra come faccio a determinarlo soltanto perché diciamo ho sentito la bella storia oggi o perché la leggo su un'etichetta cioè se io vado a scegliere un vino mi scusi trovo che sta scritto è amabile c'è questo gusto tanti tannini poi colore rosso rubino e via discorrendo queste qualità organolettiche e biologiche le trovo scritte sull'etichetta della pasta cavalieri? sì sì assolutamente sul vino spesso anzi per motivi di spazio perché le etichette poi sono più piccole c'è scritto ben poco cioè si riportano il vitigno l'annata e suggeriscono come servirlo magari i gradi e con che cosa abbinarlo nel nostro caso invece sul retro abbiamo introdotto inserito spiegando sia la materia prima come da dove proviene e soprattutto come è lavorata e i risultati nel piatto io mi permetto di di vedere diversamente forse quello che lei ha detto cioè secondo me non è vero che il piatto di pasta lo fa solo il suo questo forse lo si pensava a un certo punto però la pasta dà un grandissimo un grandissimo apporto e spesso ormai quando si parla di una pasta di qualità la si definisce anche perché può essere mangiata anche senza sugo cioè non c'è nulla di miglioro un prodotto elementale molto base ma può essere la pasta di olio assolutamente quando c'è un prodotto di grandissima qualità quella di poterla abbinare solo un filo d'olio a crudo quindi stiamo parlando di un grasso che non viene surriscaldato con tutti gli effetti benefici sul nostro corpo e magari aggiungere un po' di parmigiano ecco se c'è la qualità nel tre componenti parmigiano olio pasta già quello è un piatto assolutamente completo e che dà un grandissimo gusto al palato perché? perché una pasta artigianale innanzitutto ti fa percepire quel piacere del grano che si sente in bocca e poi la consistenza è totalmente diversa cioè non è quella consistenza un po' simile a plastica un po' artificiale della pasta industriale ma una pastosità una carnosità totalmente diversa quindi si percepisce non solo è scritta sull'etichetta vengono riportati questi aspetti ma ovviamente ad un assaggio attento si percepiscono queste caratteristiche che mi credo ormai sempre più consumatori sono poi alla ricerca grazie a lei e poi l'aggiunta se mi posso permettere anche la tenuta alla cottura che è un elemento banale insomma scuocere la pasta a cavaliere ci vuole un certo impegno quanto secondo la tua percezione quanto della scelta dei vostri consumatori è legata alla reale percezione di questo differenziale qualitativo e quanto invece può essere legato a un discorso di fra virgolette moda a cui si aggiunge spesso il fatto che se un prodotto ha un segmento elevato in termini di prezzo è sicuramente buono per cui io che posso spendere spendo quello anche perché mi differenzio dagli altri insomma in termini di questo è sempre il solito discorso che facevo prima cioè di come far percepire la qualità per cui se tutti quelli che fanno la scelta di qualità del tuo prodotto lo fanno perché sono come dire specialisti quindi sono in grado di dare quella valorizzare quella differenza nella tenuta nella struttura nella texture eccetera eccetera e quanti invece si fidano della storia o quanti invece siccome lui la compra ed è uno oppure lui la consiglia ed è uno oppure il discorso di slow food questo dipende molto dai mercati perché ci sono dei mercati emergenzi dove è vero che loro spendono perché il prodotto è famoso in Europa o l'hanno provato in Europa oppure perché costa semplicemente di più e mi riferisco al mercato in particolare russo brasiliano cinese loro ancora loro ancora non hanno sviluppato le competenze per poter veramente apprezzare un vino una pasta un olio è uno status symbol per loro ho un nostro cliente tre stelle michelin quindi uno dei più prestigiosi in Italia che ormai ha clientela pregente solo russa e brasiliana e mi dice che loro magari a colazione loro hanno anche un relais chateau a colazione chiedono una bottiglia di Dom Perignon che utilizzano perché costa 300 euro perché la più cara se noi ne avessimo un'altra da 400 la prenderebbero sciacquano la bocca e la lasciano lì a loro non interessa che cos'è se il vino va bene a colazione se lo degustano lo degustano magari lo usano come colluttorio semplicemente però è lo status che loro su quel tavolo l'hanno avuta i loro amici l'hanno vista e stanno prendendo un prodotto che costa caro quindi questa componente c'è cambierà perché anche loro apprezzeranno impareranno a capire i prodotti però è un fattore che c'è su alcuni mercati nel mercato americano ed europeo italiano in particolare il consumatore ha raggiunto anche perché non abbiamo quelle infinite ricchezze quindi uno si fa i soldi e dice io i 3 euro a pacchetto li spendo o non li spendo oggi ecco tu devi fare in modo che la tua pasta il tuo prodotto in genere sia così buono che la persona non ne possa fare a meno dica no io mi piace lo prendo e questo avviene su mercati ovviamente non tutte le fasce dei consumatori per carità su quelle fasce attente al prodotto io ero negli Stati Uniti facevamo una degustazione del nostro prodotto presentavo all'intervistatore e lui dopo una settimana mi manda io non gli ho detto niente gli ho fatto assaggiare questo è il nostro prodotto caratteristiche commerciali non ho voluto raccontare dopo una settimana il giornalista fa il pezzo e scrive era una prova comparata c'erano anche altre aziende quella che più mi ha colpito è quella di Benetto Cavalieri per la deliziosa masticabilità e l'eccellente sapore di grano cioè non mi ha detto è buona era buona adesso era crudo era crudo era crudo ed era una degustazione con pasta lessa e poi si aggiungeva un filo d'olio quindi non c'erano che è un americano mi vado a dire gli avrebbero vissuto tanti in Europa questo non so però c'è un consumatore che ho notato diciamo per diversi motivi giro spesso insomma e ho notato anche su prodotti tipicamente nostri quale può essere il vino l'olio eccetera che spesso si trova un approccio molto più come dire competente in zone a nuovo consumo per cui tu vai negli Stati Uniti e il consumatore medio di olio e extravergine d'oliva non sono ancora tantissimi però fra quelli che consumano abitualmente olio e extravergine d'oliva ne sanno molto di più di olio e extravergine d'oliva di quello che sappiamo noi come consumatori medi di olio e extravergine d'oliva nel senso che chi negli Stati Uniti o in Canada o in Giappone è entrato diciamo nella famiglia dei consumatori di olio e extravergine d'oliva ci sono entrati anche con come dire competenze non dico da specialista ma quasi cioè entrano nei descrittori sensoriali dell'olio e extravergine la stessa cosa avviene col vino cioè il consumatore medio di vino negli Stati Uniti conosce molto di più il vino del consumatore medio di vino nostro dove l'io abbiamo bevuto normalmente da bambini eccetera però abbiamo bevuto quello che ci davano quindi diciamo tutto sommato e questa cosa è spesso non ce l'aspettiamo noi siamo convinti di avere come dire la verità anche sul caffè per esempio che pensiamo di avere caffè da noi esiste solo quello espresso se vai in una starvac dove comunque c'è come dire la globalizzazione però trovi una lista di 16 caffè 18 caffè diversi magari non c'è uno buono però c'è la differenziazione loro ti vendono non solo il caffè ti vendono il caffè fatto così fatto con là che viene da lì che viene da là eccetera questo è vero ci sono alcuni luoghi si diventano più amanti del costruttore questo dell'olio è un esempio io a lezione chiedo agli studenti che in teoria sono evoluti perché sono alla laurea specialistica la differenza fra olio di oliva e olio extravergine non la sanno quasi mai nonostante siano cresciuti in un ambiente salentino noi italiani tendiamo alla banalizzazione decidiamo il nostro olio il nostro caffè il nostro coso è il migliore e vendiamo solo quello proprio perché il locale è il caffè nei nostri bar non puoi scegliere il caffè ogni bar tipicamente ha il contratto con Quarta o con Spinelli o con quello o quell'altro non è che puoi dire no vorrei un caffè leggermente diverso della Colombia no uno una sola tipologia questo è un po' banalizzare la cosa quindi non hai scelta però è anche vero che fra i 16 caffè che vendono in America 15 sono di un'acidità colossale e rieschi di sentirti male no 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 è facile voglio demogliere ma tu lo ho esagerato però se tu ti mantieni anche sui segmenti come dire un po' meno globali trovi nei paesi come dire a nuovo consumo cioè loro sono entrati in questo discorso direttamente a un livello alto e spesso c'è entrato per primo il consumatore più illuminato più pronto a recepire eccetera per cui si trova questa differenza che uno non si aspetta normalmente non si aspetta insomma che le competenze siano nel luogo sì è vero il consumatore straniero spesso proprio perché deve superare questa mancanza di conoscenza si informa molto di più quindi studia in particolare i giapponesi i tedeschi sono veramente bravissimi arrivano sono preparatissimi e delle volte mettono in difficoltà anche una persona del settore perché ce l'hanno proprio nel DNA noi dobbiamo essere bravi però a spiegargli a raccontarli con trasparenza quello che facciamo spesso mi trovo in difficoltà perché abbiamo poi un modello di presentarci frazionato delle volte incomprensibile l'ultima magari un'esperienza che può capitare a tutti è quella di dover spiegare le denominazioni dei vini a uno straniero io ero con una persona giapponese che mi chiedeva che cosa vuol dire doc allora gli ho spiegato che c'è un disciplinale denominazione di origine controllata la produzione avviene nel luogo di trasformazione il ministero controller ah benissimo quindi il copertino doc si si il copertino doc poi mi chiede ma scusa io importo il moscato d'asti che non è doc è docg che vuol dire faccio a denominazione di origine controllata è garantita e scusa il copertino non è garantita non me lo garantite questo è un classico noi dobbiamo anche imparare a semplificare a presentarci bene a fare gruppo a presentarci come paese come fanno spesso gli altri e se no avremo nella nostra complessità perdiamo poi delle opportunità infinite no questo è una cosa che a volte racconto in Giappone molti comprano prodotti italiani senza aver studiato solo per chi è italiano no perché c'è un amore esagerato per l'Italia però non riescono io ho tentato di spiegarla a comprendere la differenza appunto fra olio extravergine e oliva e olio di oliva per loro nella loro logica leggendo la tradizione inglese l'olio normale è quello di oliva quelle extravergine ci hanno aggiunto qualcosa no e quindi non vi torna cioè questa nomenclatura no barocca che ci siamo inventati a volte confonde moltissimo anche i consumatori che per davvero devono avere studiato a fondo però il consumatore semplice voglio dire non si riesce a fare divulgazione sull'olio extravergine d'oliva nel Salento è difficile far comprendere al giapponese meglio che si potrebbe permettere la bottiglia di olio extravergine la differenza dall'olio no di oliva normale che poi anche per i mercati commerciali sullo scaffale hanno un prezzo in Giappone praticamente identico tanto guadagnano lo stesso non ha importanza conferma uno scenario inquietante che nel caso in cui ci sia un consumatore molto molto attento e questo riesce a discriminare il vero e autentico prodotto italiano dalla contraffazione nel caso invece in cui il consumatore non riesce a superare quella soglia culturale di formazione o di educazione al prodotto la bandierina italiana appiccicata ad una qualunque scatola automaticamente apre le porte poi a un prodotto che italiano non è qui è importante anche la capacità che il produttore il sistema paese deve essere in grado di proteggere al di là delle ipotetiche barriere che si possano ancora alzare a difesa della produzione italiana europea alla luce anche dell'introduzione sulla globalizzazione prima per esempio quando si faceva questo discorso sul fatto che noi abbiamo una regolamentazione molto come dire stretta però mancano i controlli all'ingresso per cui noi non possiamo vendere però facciamo comprare i nostri consumatori e roba la cosa però è comica perché in realtà noi siamo anche attori di questa invasione non onesta sul mercato delle insalate per esempio l'Italia insieme ad altri paesi ammette l'uso dell'ipoclorito per sanitizzare l'acqua di lavaggio paesi del nord Europa dalla Germania all'Olanda fino a Danimarca eccetera invece non ammettono l'uso dell'ipoclorito per cui siccome l'ipoclorito costa poco efficace eccetera c'è un gap nella possibilità di farlo per cui in Germania diciamo lo sviluppo del mercato dei prodotti in busta è stato un po' limitato e comunque chi lo vende scriveva comunque lavatelo per cui mancava come dire il servizio principale era quello di non lavare ulteriormente quello che sta succedendo è che aziende italiane producono e imbustano con i metodi che in Italia vanno bene e vendono in Germania dove nessuno controlla in realtà qualche prodotto come dire di decomposizione del cloro di reazione con le agio organi si potrebbe anche trovare concentrazione molto bassa però avviene quello che noi ci lamentiamo che avvenga diciamo con gli altri paesi per cui noi laviamo le insalate col colore e le vendiamo in Germania diciamo insomma non è un grande problema però per i tedeschi che non hanno prodotto fino a mo' perché non c'era il cloro diciamo la cosa però diciamo rientra in quei problemi legati alla mancanza di una politica comune una politica fiscale comune adesso non è normale che uno stato a noi vicino possa proporre una tazzazione del 20% sulle aziende che aprono a 20 km dal confine italiano cioè c'è una distorsione del sistema e questo rientra sicuramente in questi aspetti ma questo è una struttura no? altre domande? se no facciamo conchiudere alla nostra share scusa grazie un attimo a cambiare il discorso nel senso che mi interessa io ho avuto già un modo di confrontarmi su questa questione con il professore De Bellis non so se ricorda una piccola premessa io lavoro per uno spin off dell'Università del Salento che è proprio qui in una di queste stanze che si chiama EKSRL e ci occupiamo di tutt'altro nel senso che siamo dei consulenti fondamentalmente io in particolare gestisco il gruppo che si occupa di PLM sia di product life cycle management sia di gestione metodi e strumenti per la gestione del ciclo di vita del prodotto abbiamo l'idea di diversificare nel senso che il nostro riferimento dal punto di vista della clientela è l'industria manufatturiera discreta prevalentemente le aziende dove c'è filiera complessa ossia aerospace automotive e nostra intenzione è voler adottare questo approccio che è quello della gestione del ciclo di vita del prodotto a contesti diversi quale può essere quello agroalimentare in particolare io ho presentato un progetto di ricerca in collaborazione con un'azienda di Ostuni un olificio vero e proprio per adottare sostanzialmente per rimodellare il processo di sviluppo prodotto olio utilizzando un approccio di live life cycle ossia di gestire tutte le fasi del ciclo di vita produttivo attraverso degli strumenti informatici open source dalla dalla fase di ideazione tra virgolette ossia dalla fase di coltivazione fino alla fase di lavorazione e poi anche di vendita e post vendita e intorno a questo c'è anche un altro progetto che sta andando in parallelo con invece la filiera vitivinicola e ho avuto in particolare che citava la copertina sostanzialmente l'onore di avere come consulente il vostro l'enologo Giuseppe Pizzolante Pizzolante che ha abbracciato questa idea mi interessava capire in una filiera invece quale può essere quella del vostro settore di riferimento qual è l'attenzione o anche eventualmente nel caso della frutta se il professore Coley può dare la testimonianza l'attenzione verso l'information technology cioè in questo senso qual è l'importanza che si può attribuire a strumenti di gestione dell'informazione sostanzialmente se ha senso parlarne in contesti come il vostro questo perché dal gestire l'informazione quindi tutti i dati che afferiscono al prodotto dal concepimento alla dismissione diciamo io dico dismissione in realtà mi riferisco al posto vendita prevalentemente viene diciamo così porta con sé tra virgolette gratis tutta una serie di vantaggi quale può essere il discorso della tracciabilità e della rintracciabilità che poi da un certo punto di vista in poi va raccontata al consumatore finale per essere poi soprattutto si parla di eccellenza per essere poi leader sostanzialmente di mercato questo è quello di cui stava parlando lei era uno strumento volto all'interno o all'esterno adesso non conosco nello specifico sostanzialmente è una piattaforma una piattaforma che va intesa in ottica di impresa estesa quindi dovrebbe coinvolgere tutta la filiera quindi tutti gli attori è ovvio che nel caso di una cantina cooperativa o di una cantina che ha probabilmente il 70% del lavoro lo fa la cantina è ovvio che ci si attende una maggiore presenza però l'idea è quella di estendere ed arrivare anche al consumatore finale tramite i meccanismi di QR code identificazione del prodotto per cercare di far partecipe il cliente con azioni di feedback sul prodotto stesso cioè portare anche il cliente quando vede un prodotto sullo scaffale di poter conoscere in tempo reale anche tutta la filiera se volessi fare qualche esempio banale non so nel caso dell'olio uno degli aspetti che andremo a gestire sarà per esempio tutta la fase di blending di miscelazione dei vari semi lavorati per arrivare a con tutta una serie di meccanismi di iterazione quindi momento A momento B momento C in funzione di quella che è l'evoluzione dello sviluppo del prodotto stesso analogamente magari si può ragionare anche nell'ottica del vino quindi fare una serie di diciamo gestire per iterazione i vari sviluppi che il prodotto stesso ha tra fermentazione dove bisognerebbe poi porre un'attenzione particolare al controllo in fermentazione che è quello che poi determinano il prodotto stesso e quindi gestire in maniera diciamo così fluente tutte le informazioni che afferiscono al prodotto con un meccanismo di workflow e di come dire assegnazione automatica di task in funzione di quelli che sono i ruoli delle proprie risorse quindi l'enologo che dà delle indicazioni al cantiniere che deve fare delle operazioni e poi informazioni di feedback questo è un po' giusto fare l'esempio banale per far capire di chi stiamo parlando a un certo punto si arriverà poi a azioni di marketing vero e proprio in cui si potrà raccontare a ritroso secondo questo meccanismo proprio il processo sostanzialmente che ha determinato la qualità di un prodotto un approccio di questo genere nel caso di un'azienda come la sua o nel caso della frutta può aver senso o potrebbe essere superfluo? prego in generale l'ortofrutta è un prodotto come dire povero per cui i valori raggiunti molto limitati quindi la la capacità di investimento in questo senso è sempre come dire più scarsa rispetto ad altri comparti agroalimentari sicuramente c'è uno sforzo a come dire raccogliere le informazioni importanti legate alla fase produttiva quindi l'approccio per esempio c'è diversa sperimentazione anche come dire industriale dei tag RFID legata a come dire a portare a bordo del prodotto informazioni legate alle esposizioni a temperature composizioni gassose presenza di etilene danni meccanici oltre una certa e quindi come dire far arrivare il prodotto dal farm al processamento e anche in fase poi di distribuzione con le informazioni che l'hanno contraddistinto poi l'architettura che gestisca queste informazioni in maniera tale da per esempio rappresentare un'informazione aggiuntiva al consumatore per cui i time temperature integrator per esempio oppure qualcosa che come dire dia un'informazione visibile al consumatore finale questo come dire che io sappia esempi pratici di applicazione nel mondo reale non ne conosco almeno sul discorso altroute a parte qualche smart label diciamo sin no di abuso termico però sul discorso acquisizione dati diciamo c'è abbastanza anche se credo nessuno lo applica ancora in maniera e poi che tipo di architettura utilizzare come punti di controllo come meccanismi iterativi insomma per fare in modo che poi quella raccolta di dati abbia poi un senso in termini pratici io ce l'ho sì beh sì sottoscrivo quello che ha detto il professore però può rappresentare in futuro anche con il cambio generazionale realmente un fattore importante da poter rappresentare il consumatore perché delle volte si ha a che fare anche in campagna mi parlo in questo caso per quanto riguarda della cantina quello che noi stiamo facendo è cercare di tutelare e mantenere quei piccoli appezzamenti che sono stati per anni anche gestiti da persone monzaziane che continuano con difficoltà enormi quindi noi diciamo il primo progetto che stiamo cercando di portare avanti è proprio questo cioè passare da un ricambio generazionale e da una tutela di quei terreni che diversamente vanno a scomparire vanno a perdersi però credo che possa essere veramente uno strumento molto utile nel momento in cui si riesce a implementarlo con la comunicazione verso il consumatore nel mondo della pasta anche vale quello che ha detto il professore cioè che comunque è un prodotto che ha poi dei costi abbastanza limitati sul vino invece ci possono essere delle prodotti si può pensare a una linea di vino dove viene tracciato tutto e viene informato il consumatore anche tramite si sono fatte degli esperimenti in questo senso però non sulla tracciabilità del prodotto sul più alto autenticità di quel prodotto cioè il consumatore può digitare un codice stampato sulla bottiglia e automaticamente gli viene risposto sul cellulare se quella bottiglia è uscita dal consorzio se comunque è una contrafazione o no non so francamente che risultati ha dato come risposta del consorzio questo non lo conosco però può essere un aspetto molto interessante adesso ne parlerò anche con Giuseppe per capire come a che punto è il progetto però sicuramente il progetto è stato presentato e diciamo ha fatto la fase di valutazione di coinvolgimento insomma al suo per vedere se che interesse potesse avere lui sarà uno dei consulenti del progetto stesso siamo in attesa diciamo il progetto ufficialmente nasce per l'ovicoltura però l'idea era quella di poterlo estendere almeno all'escorso vitivinicolo beh sì può essere perché lui si occupa sia di olio che di vino sostanzialmente quindi era poteva essere utile soprattutto per il discorso del vino perché è un processo molto più complesso rispetto a quello dell'olio quindi è in fase di istruttore sostanzialmente stiamo aspettando che l'esito diciamo che dal punto di vista aziendale come società c'è la forte intenzione di realizzare comunque questo strumento magari se riusciamo ad ottenere poi un aiuto sicuramente male non fa però crediamo molto che questo possa essere un approccio percorribile anche per settori insomma agroalimentari io personalmente ritengo che l'information technology debba arrivare anche in campagna non sappiamo quando è difficile probabilmente stimarla però probabilmente è un percorso obbligato sì ma io stavo riflettendo anche in base a tutte le implementazioni che ormai gli agricoltori dovranno fare tra registro di campagna carico rifiuti scarico rifiuti sì sì questo ci sono già diciamo che dal punto di vista sono adesso cartacee comunque come classi però però non si può pensare che di qui a pochi anni non saranno implementate ci sono già dei software che lo fanno ovviamente sto facendo anche un'analisi di quella che è la concorrenza e la situazione attuale ci sono già dei software che lo fanno un esempio nel caso dell'olio il Peralisi stesso o l'IphoSoft si chiama che non è neanche il 10% di quello che noi stiamo proponendo e ha dei costi veramente elevati per un'azienda per un piccolo una piccola cooperativa insomma non difficile parliamo di siamo sui 1700-1800 euro a licenza all'anno mentre voi fornite la consulenza e i software sono sì la nostra idea è quella di poggiarci su tecnologia open source quindi non pesare su costi di licenza che sono almeno nel nostro caso lavorando con le grosse aziende non hanno non si riscontra prodotto questo problema parlo ovviamente del settore aerospace però per esempio già le piccole e medie imprese anche quei settori lì hanno difficoltà quindi hanno necessità di questi strumenti però 9 casi su 10 è il costo di licenza il deterrente poi la consulenza si riesce a diciamo a a portarla a casa perché comunque poi accompagna l'azienda nel processo di innovazione però il costo di licenza può essere visto effettivamente come un di più un costo fisso grazie sì non solo poi questa operazione aiuta nella tracciabilità quindi la consulenza rientra in quei costi che ormai sono diventati obbligatori però l'importante è il valore aggiunto forse senza offesa il pastificio Cavalieri poi potrebbe arrivare tra un po' a mettere un QR code sulla confezione col telefonino la storia del pacco sarebbe molto in Giappone una strada mi comprerebbero sicuramente 10 pacchi in più il pacco la storia del pacco no no ma può essere può essere il futuro e può essere anche una sfida del ricambio generazionale che sta avvenendo bisogna aspettare il tuo figlio no ancora speravo di poter dare qualcosa io insomma no ricambio generazionale beh no mio padre è sempre il siamo d'accordo certo quindi rispetto ovviamente il principe dobbiamo aspettare anche il mio capo ho bisogno di allora tra poco partoriscono in Gran Bretagna no perché devo dire che spesso non si può pensare di finire gli studi entrare in una realtà e di lì a poco stravolgere tutto cioè questo è il classico approccio di quelle aziende che poi i cinque anni e il cambio generazionale non lo superano secondo me bisogna entrare coi piedi di piombo cercare prima di capire quali sono gli aspetti positivi fare nel tesoro e piano piano apportare la propria esperienza il proprio entusiasmo le nuove tecnologie per migliorare gratuitamente ma pensare di poter fare tutto non solo di apprendere perché oltre a essere un'azienda che vende prima di tutto deve produrre e c'è un metodo non standardizzato non industriale quindi bisogna nel mio caso dovevo apprendere queste tecniche e poi poter apportare piano piano tutte quelle innovazioni che sono necessarie e questa potrebbe essere una per il futuro molto bene allora passo la parola alla Sheer io chiudo semplicemente ringraziando intanto il professore De Bellis perché ci ha messo in contatto con due eccellenze veramente io avevo chiesto due persone che potessero rappresentare in qualche modo l'eccellenza sia nel campo accademico che nel campo industriale e lo ringrazio anche a nome degli altri componenti di Quagrifoglio che mi ha dato la possibilità comunque di mettervi in contatto con voi sia col professore Colelli e lo ringrazio e sia con lei il dottor Cavalieri e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e spero che questo seminario sia in un certo senso servito a farci capire o comunque a metterci a conoscenza di alcune cose che magari fino a poco tempo fa non sapevamo questo grazie mille grazie grazie